Da sempre la diocesi, la comunità cristiana, anzitutto è composta da lavoratori e comunque ha sempre mostrato un particolare interesse, una particolare vicinanza per il mondo del lavoro. In particolare in questo momento, difficile anche legato un po' alla crisi economica. Una contingenza nella quale la diocesi di Padova si inserisce con una serie di iniziative per la festa del lavoro, iniziando dalla proposta del Vescovo di Padova, Monsignor Antonio Mattiazzo, di approfondire l'enciclica papale Caritas in Veritate. Tra i temi toccati dal Vescovo, nel suo messaggio per il primo maggio, anche la disuguaglianza di ricchezza che si sta manifestando nella nostra società e la voracità e la velocità con cui si creano i guadagni. Particolare attenzione anche al tema dell'usura e a quello delle aperture domenicali dei negozi. Su queste il Vescovo ipotizza altre strade rispetto al trend attuale, capaci di lasciare spazi liberi dallo scambio commerciale dedicati al riposo festivo. Una riflessione anche sulle morti bianche. È prevista una celebrazione eucaristica in soffraggio dei morti sul lavoro il primo maggio alle 12 alla chiesa di San Clemente in Piazza dei Signori. Questo lo facciamo ogni mese alla Cappella San Giuseppe Lavoratore. Il primo venerdì del mese viene sempre celebrata una messa per le morti bianche. E lo faremo anche il primo maggio, a margine della manifestazione in piazza, promossa anche dalle Acli. Questa messa la faremo nella chiesa di Piazza dei Signori, proprio per dire che ogni vita ha valore. E che quindi indirettamente c'è anche un messaggio alla società, che però è condiviso con tutti gli attori sociali, cioè che la vita è un bene troppo importante perché si possa morire di lavoro. Giovedì 29 aprile il Vescovo visiterà alcune aziende della zona industriale e celebrerà una messa alle 19 presso la Cappella di San Giuseppe Lavoratore in Via Quarta Strada, cui seguirà un incontro promosso dalle Acli sul tema dei possibili posti di lavoro legati all'avvento della Green Economy. Infine due appuntamenti di carattere culturale presso il cinema MPX. Martedì 4 maggio è prevista la proiezione del film Tra le nuvole, mentre domenica 16 maggio verrà proposto Mar Nero, un'opera prima sul tema delle badanti. Grazie a tutti.